La sua provvidenza guidi a un fine di bontà e di grazia le fatiche e i progetti umani. Da sollievo al corpo e allo spirito, aiutaci a disporre con saggezza del nostro tempo libero. Ascolta, Signore, la nostra fisiciosa preghiera, perché questi spazi destinati alle terenità recreative accrescono il vigore delle membra e favoriscono la serenità dell'anima. Fa che tutti sperimentino nella lealtà il valore dell'amicizia e superando ogni forma di violenza promuovano la civiltà dell'amore. Per Cristo, nostro Signore, Dio che infonde vigore ai corpi, luce e le menti, vi guidi giorno e per giorno, perché in tratternità e letizia diventiate ambasciatori e testimoni di pace. La benedizione di Dio Onipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, scende su questo luogo e su tutti coloro che lo presenteranno e lo ameranno. Facciamo ora sollevare alla signorina Anna Miner e alla signora Armando Guarino questa targa. Un grande applauso. Grazie a Don Marco per la benedizione e per le sue parole. Ringraziamo anche le associazioni.